Ben ritrovati, seconda parte di Buongiorno Friuli, siamo pronti per sfogliare assieme i quotidiani sportivi locali e nazionali per parlare di Udinese, di Serie A che ritorna dopo la pausa delle nazionali ma anche di nazionali con la National League che ieri ha concluso le sfide di questa settimana e poi anche la Serie C perché ritornano in campo Porrenone e Triestina per il turno infrasettimanale del Girone B. Partiamo dall'Udinese con le pagine interne del Messaggero Veneto che oggi propone una lunga intervista a un doppio ex ovvero per Paolo Marino che sfoglia l'album dei ricordi dai a Quinta a Reia Udinese Napoli, due creature anche mie. E' cominciata la settimana di avvicinamento al match di sabato sera, l'ex DG delle due società ruota libera tra ricordi e aneddoti. Andiamo a leggerne alcuni, i due giocatori più importanti sono da una parte Berami e dall'altra Allan ha spiegato Marino sulle squadre che si sfideranno alla Dacia Arena. Poi ha spiegato che l'acquisto del quale è andato più orgoglioso a Udine è stato quello di Iaquinta preso dal Castel di Sangro, poi ancora le lodi alla Parompozzo, un capitano d'azienda. De Laurenti invece dice che quando comprò il Napoli non sapeva nemmeno che c'era un limite di tre sostituzioni. E poi per quanto riguarda Velasquez spiega un rischio alla domanda, sì ma credo calcolato, non conosco Velasquez ma se l'ha scelto Gino credo sia giusto fidarsi. Sì e poi lo vedete proprio nella foto con Paronna Pozzo, un'esperienza che appunto ha portato fortuna all'Udinese. L'intervista poi prosegue con altri spunti, c'è anche il profilo proprio su Marino da Avellino a Bergamo passando per il Friuli, questa è la sua lunga carriera. Sono le sette tappe Avellino, Napoli, Roma, Pescara, Udinese, ancora Napoli e poi Atalanta. Questa è l'intervista a Pierpaolo Marino. Andiamo ad avvicinarci alla sfida di sabato con gli allenamenti che continuano in attesa che rientrino tutti dalle nazionali. Teodorci ora promette presto al 100%, ha già lavorato col gruppo per quanto riguarda appunto la sua preparazione. Presto sarà al 100%, ha scritto il Polacco su Instagram, ovviamente anche i tifosi bianconeri si augurano che faccia il salto di qualità. e appunto inizi anche a gonfiare la rete. A proposito dei lavori differenziati, ieri il menù personalizzato è toccato anche a Berami che sta benissimo ma solo bisogna di dosare i carichi di lavoro. E anche Kevin Lasagna è rientrato alla base dopo l'ottimo impatto avuto in azzurro con l'assist a Biraghi per il gol del successo in Polonia. Anche Rolando Mandragora ha lavorato in palestra dopo la partita con l'Under 21, ha bisogno di lavoro di solo scarico e dopo essere sceso in campo appunto con la sfida alla Tunisia della nazionale Under 21. Ha lavorato invece sul campo a pieno regime Simone Scuffet, Balic, Macis e Pezzella non si sono ancora uniti e difficilmente recupereranno per la sfida al Napoli. Oggi l'Udinese si allenerà ancora alle 10.30 al Bruseschi. I nazionali dicevamo De Paul e Larsen spettatori, poco male per Velázquez, ieri hanno completato le loro amichevoli anche questi calciatori bianconeri. Rodrigo De Paul è tornato appunto a sedersi in panchina nell'amichevole che l'Argentina senza Messi ha perso in Arabia Saudita col Brasile. 1-0 nel recupero il gol di Miranda, il numero 10 addirittura era in tribuna ma solo per questioni numeriche. Poi ha riposato anche Larsen con la sua Danimarca che era impegnata con l'Austria solo nel recupero mentre il National League Barak ha disputato 90 minuti nella Repubblica Ceca che ha perso in Ucraina. Vittoria infine per la Niceria di Yekong in Libia 3-2, pari per il Mali di Vague in Burundi 1-1 nella sfida utile per la Coppa d'Africa. Continuiamo con le pagine sportive del messaggero. Sul fronte della sfida di sabato c'è anche un caso che è reso noto oggi dal quotidiano. È di Napoli, tifo Udinese, stadio proibito al geologo che ricostruì Venzone. Armando Miele collaborò numerando le pietre del Duomo a 73 anni, una vittima delle disposizioni dell'osservatorio sulla sicurezza. Proprio per quanto riguarda l'ordine pubblico, quella di sabato è considerata una partita a rischio, ci saranno possibili disposizioni della questura. Ricordiamo che nel giorno della gara la biglietteria dello stadio sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.30. Per questo match invece non è attivo il servizio deleghe e per i residenti in provincia di Napoli possono accedere solo al settore ospiti con la tessera del tifoso del Napoli. Dicevamo delle nazionali, si gode il suo momento Mancini dopo la vittoria con la Polonia, Congo senza centravanti, sarà un'Italia d'attacco, ha dichiarato il CT. Sul fronte Nation League invece la Germania è finita KO in Francia, il CT Leuves rischia il posto, vincono 2-1 i Galletti, tra l'altro una gran marcatura di Griezmann che poi all'ottantesimo su rigore ha fermato la sua doppietta personale. Per parlare di Udinese ci spostiamo ora sulle pagine del Gazzettino, riprendendo la pagina dedicata proprio ai bianconeri, se riusciamo a recuperarla. Eccola qua, Kevin farà ancora meglio. Lasagna con Oddo in panchina aveva fatto 8 gol, è una punta che sente la fiducia e necessita di spazi. Si trova a suo agio nelle ripartenze della squadra quando è troppo isolato, fa più fatica a segnare, a parlare. Massimo Oddo, l'ex allenatore bianconero che, come avevamo visto nella prima parte, è stato richiamato a commentare il momento della formazione bianconera. Lui ha proprio chiamato con il Napoli, un esordio che finì con una sconfitta ma con un'ottima prestazione che fu poi tra l'altro preludio di una striscia di 5 vittorie di fila prima del blackout che ha portato all'esonero dell'allenatore. Per quanto riguarda proprio Lasagna, spiega Oddo che è un giocatore che si adatta, il Napoli palleggia molto, sicuramente le caratteristiche di Kevin sono diverse dagli attaccanti che ha ora. E' pur vero che con Ancelotti gioca due punte, per me una coppia in segno e Lasagna sarebbe tanta roba. L'infortunio di Kevin ha inciso in negativo nella sua avventura a Udine, ha inciso in grande percentuale. L'anno scorso l'Udinese era fisica, non tanto tecnica e abile a ripartire. Senza Lasagna non avevamo la gamba giusta per farlo. E poi per quanto riguarda proprio lo scontro di sabato, può sperare al colpaccio all'Udinese? Le partite scritte, dice Oddo, non esistono. Il Napoli è una delle squadre più forti dell'Ava, va a incontrare una squadra altrettanto forte che ha bisogno di più tempo per l'amalgama dei giocatori, visto che anche l'allenatore è nuovo con un'altra cultura calcistica. Mi auguro che la società dia questo tempo a Velasquez. E poi che cosa succede per quanto riguarda i bianconeri? Dicevamo del rientro dei nazionali, anche Mandragora si è caricato in azzurro. Il centrocampista leader dell'Under 21 di Luigi Di Biagio, cioè il profilo sul personaggio, che non era piaciuto magari nella sfida contro il Belgio, nell'amichevole giocata Udine, ma invece contro la Tunisia si è messo in luce. Per la preparazione dei bianconeri, Velasquez ha seguito naturalmente le amichevoli degli azzurini, darà retta alle risultanze del campo, nel segno anche della logica, dovrebbe optare proprio per Mandragora per completare l'undici di partenza anti-Napoli, con conseguente sacrificio di Barak, che sinora, anche perché è tormentato da problemi e problemini di natura fisica, non ha giocato molto e spesso al di sotto delle sue notevoli potenzialità. Ci fermiamo un attimo con la rassegna stampa sportiva, perché è giunto il momento del punto sul traffico cittadino a Udine. Allora diamo buongiorno a Stefano Passantino della Polizia Locale. Cosa sta succedendo tra le strade della città? Buongiorno. Allora, al momento il traffico è sostenuto, ma comunque non ci sono situazioni di criticità, in quanto siamo durante l'ora di punta, quindi è normale che il traffico sia abbastanza sostenuto. Per cui ci possono essere dei rallentamenti in certe zone, in certi punti della città, ma non nulla di eccezionalmente critico. Per quanto riguarda i lavori in corso, vorrei ricordare che ci sono dei lavori in corso per il teleriscaldamento, si svolgeranno dal 15 al 31 ottobre, in Viale Volontaria della Libertà, e quindi ci saranno dei restringimenti della carreggiata e dei divieti di fermata per agevolare gli scavi. Inoltre, a causa dei lavori di ristrutturazione, ci sarà un restringimento della carreggiata in via Timavo, e quindi anche lì è una zona periferica, quindi non c'è un grande traffico, però anche lì ci sarà un restringimento della carreggiata. Al momento non c'è null'altro da segnalare. Perfetto, mentre vediamo scorrere le immagini dei centri nevralgici del traffico cittadino, ringraziamo Stefano Passantino della Polizia Locale e noi ritorniamo sui quotidiani per completare un po' il quadro verso la sfida di Udinese-Napoli, anche facendo il focus sui nostri avversari. In particolare, Mertens è pronto a tornare inamovibile. Napoli è ripartito con Carlo Ancelotti in maniera molto buona, eccezione fatta per le sconfitte contro Sampe e Juventus. Per quanto riguarda la formazione, il nuovo tecnico ha gettato nel bidone dell'indifferenziato il solito concetto sariano dei titolarissimi in questo Napoli. Non esiste posto fisso e bisogna sgomitare, lo sa bene, Drey Mertens, che è stato intoccabile, specie nelle ultime due stagioni. Poi c'è stato l'arrivo di Ancelotti, che lo sacrifica spesso sull'altare del nuovo 4-4-2, che sta sviluppando, ma Mertens non si è perso d'animo e continua a lottare per la maglia da titolare con il Napoli, dunque che in vista della sfida potrebbe proprio far giocare Mertens, strizzando anche l'occhio alla società per un possibile rinnovo di contratto che sarà nel 2020. Di Napoli e di Udinese soprattutto torneremo a parlare più tardi dalle pagine dei quotidiani nazionali. Ora ci spostiamo sulla Serie C, perché ritorna in campo la categoria, il Gironi B in particolare, quello di Pordenone e Triestina, la trappola di Leo Colucci non spaventa, i neroverdi, Tesser, i pesaresi davanti hanno tanta qualità e noi contro il Vicenza abbiamo speso molto. Il vecchio tecnico non porta rancore, sarà un piacere ritrovare dei ragazzi fantastici. La sfida è naturalmente quella tra Pordenone e Vispesaro e la Vispesaro quest'anno è allenata da Leonardo Colucci, che gestì la prima parte del campionato dello scorso anno del Pordenone, prima appunto dell'esonero. La rivincita dell'ex meteora Manuel Nocciolini per quanto riguarda i dettagli della formazione pordenonese che naturalmente ritorna a farsi notare l'ex Ramarro che è passato da Pordenone nella seconda metà della scorsa stagione adesso ha ritrovato la forma, la verb dei giorni migliori giocando con Ravenna tra Forlì e Parma e invece i suoi trascorsi. Sul fronte invece della sfida con la Vispesaro, l'undici che potrebbe far scendere in campo Tesser, Bindi in porta dovrebbe essere confermati poi dietro Agostini, Barison, Stefani e Semenzato. A centrocampo ancora assente Misuraca, impossibile rinunciare a Burrai che dovrebbe essere affiancato da Gavazzi e Bombaggi sempre che il tecnico di Montebelluna non decida di arretrare Ciurria in posizione di Mezzala. Possibile staffetta anche in attacco fra Magnaghi e Germinale con quest'ultimo che potrebbe partire dall'inizio a fianco di Candellone. Il tabellone, le altre gare della settima giornata oltre appunto alla sfida di Pordenone e Vispesaro ci saranno anche Feralpi, Salò, Rimini, Gianna Erminio Ravenna, Renate, Veccomp, Verona, San Benedettese e Molese, Terramofano e Ternana, Albino Leffe. Questo è il punto sulla Serie C e andiamo proprio a recuperare sempre dal messaggero le formazioni di questa sfida che si giocherà nelle marche con la grafica. Ritrovare i tre punti per rimanere in vetta contro Colucci è vietato sbagliare la Vispesaroitosta, Vertetesser torna a titolare Ciurria ma l'ex mister ha voglia di rival se schiera il fratello di Keita. Eccole qua, le formazioni, l'inizio, il fischio d'inizio alle 18.30 al Benelli di Pesaro con la formazione marchigiana che si schiererà con il 3-4-1-2 risponderà il Pordenone con il modulo speculare. Queste appunto le possibili formazioni Bindi Trepali, Semenzato, Stefani, Barison, De Agostini in difesa, Gavazzi, Burrai e Damian, Poi Ciurria dietro Magnaghi e Candellone. Tornare a vincere è questo uno dei quattro obiettivi che si è data alla squadra del presidente Loviso, subire meno gol, se si esclude infatti la sfida con la Virtus, Verone e Ramari hanno sempre incassato almeno un gol e poi segnare di più. Ciurria è stato protagonista di un ottimo avvio a cui è mancata la ciliegina sulla torta, la gioia personale. E poi l'ultimo obiettivo quello di battere l'ex mister. Il big match di giornata sarà Vicenza-Monza, debuttano i nuovi allenatori alla guida di Fano e Renate. La Triestina sarà impegnata contro il Sud Tirol in Alto Adige. Questo per quanto riguarda il punto sulla Serie C. Andiamo invece ora a parlare di basket con la GSA che si gode il successo interno di domenica. Simpson avvisa la squadra a campionato tosto che bisogna andare a tutta per fare tanta strada. Parla l'americano che ha già stregato il pubblico friulano. Mi piace giocare al Carniera, l'ambiente è trascinante. E vi ricordiamo a proposito di GSA che stasera vi proporremo Basket Tonight con Jacopo Romeo alle ore 21 una nuova puntata che avrà come ospiti Marco Spangro e l'assistant coach Gerometta dalle 21 su di News TV. Si parla anche della prodezza, la schiacciata di Trevis al secondo posto nella top 10 della Lega per quanto riguarda poi sempre il basket la Serie C Gold nobile riscatto a corno ma serve più continuità. e poi per il calcio di Lettanti invece oggi è il punto sulla promozione sorridono a Fagagna Tarcento e Tolmezzo Valnatisone delusa spiccano le vittorie con Goleada e lo stop interno pur se di misura a San Pietro grazie alla Risanese che ferma il primone la Virtus Corno si trova da sola in vetta e questa è anche la formazione con i migliori di giornata per quanto riguarda poi le notizie legate ai dilettanti ci sono anche i nostri unici la stagione del riscatto di Montagnese Canapari Federovici Spizzo e Nardi e poi il punto di Simone Fornasier si sbrocca Salguerra poi 5 le sconfitte invece inanellate dal Gonars 37 le gare di campionato trascorse dall'ultima rete di Luca Salguerra che non segnava dal 2 aprile 2017 in promozione con la sua Brian il gol era alla spalla per la Serie D invece paura per di Agostini a Bolzano ingoia un insetto e va in ospedale tra cronaca e sport è finito bene però l'avventura dell'allenatore della Tierniz Muzzane che appunto ha rischiato il soffocamento per aver inghiottito un insetto inevitabile ricorso al pronto soccorso ancora con le pagine di sport del Messaggero Veneto dal Piemonte per vedere giocare la fila realizza il kit del tifoso per la CDA questa è una storia che ci arriva dal volley sciarpe cappellini magliette e altro per il volley Talmasson Simbiuno anche fondato il gruppo Pink Panthers è una notizia dunque che riguarda il volley lasciamo le pagine del Messaggero Veneto e ci proiettiamo sui quotidiani nazionali a partire dalla Gazzetta dello Sport che apre con il percorso di avvicinamento del Super Derby Inter Milan un derby che supera il miliardo il valore delle due rose arriva a 11,77 milioni più ricca quella nera azzurra ma la Montengaggi dice Milan Suning e Elliot patrimoni a confronto la sfida del derby viene proposta anche in chiave economica ma c'è grande spazio anche per il volley l'Italia vola le ragazze in semifinale fanno 10 su 10 con il brivido Olanda e Cina per le medaglie e poi ancora sempre dalla prima della Gazzetta Mattarella e Ceferin ora il calcio italiano deve modernizzarsi andiamo proprio all'interno a vedere alcune delle notizie che ci riporta oggi la Gazzetta Inter Milan 262 a 202 tutti classico San Milano Pipita gol Asamoah vince nei numeri il derbissimo di San Siro ora abbassate la saracinesca il Milan ha fatto 13 Gigio e Romagnoli serve il Lucchetto per quanto riguarda appunto la questione difese e la battaglia del grano scuote la Serie A questa è la panoramica i card screener Inter al lavoro Bonaventura e Bivio Milan via vai Roma queste le trattative sul mercato che si rinfocola andiamo ora ad approfondire nuovamente Udinese Napoli e con le pagine dedicate dalla Gazzetta alla sfida della Dacia Arena di sabato Milik Mertens staffetta per un Napoli multiuso Ancelate alterno un centravanti classico uno di movimento anche in base agli avversari 5 gol in 2 per il polacco il belga questi i numeri le partite da titolare nel campionato di Milik su 6 presenze per un totale di 3 gol 4 anche le gare giocate da Mertens su 8 presenze il belga ha segnato 2 gol questo anche il confronto la competizione è parte integrante del progetto del tecnico e tutti sono contente anche a Udine dopo la pausa sarà turnover in combe la Champions sul fronte udinese invece la Zagna dopo il sogno azzurro ora cerca un partner tutto bello e nazionale peccato solo per i miei che hanno perso il volo all'Udinese davanti mi sento un po' solo queste le parole di Kevin Lasagna che ha commentato dunque il suo debutto in azzurro con l'assist per Biraghi e ora sarà protagonista sicuramente con la maglia bianconera dalle pagine della Gazzetta dedicate all'Udinese ci spostiamo ora le altre prime pagine quella della Corriere dello Sport eccola qua sognando Baggio Chiesa gioiare del calcio italiano si apre con noi al mondo del più grande non credo di valere 60 milioni penso solo a giocare a divertirmi a Firenze mi realizzo con l'Italia cresco vedrete che Mancini farà una grande nazionale il Corriere dello Sport fa anche il focus sui giocatori dei Vivà in campo siamo terzultimi in Europa nell'intervista invece a Chiesa di Ivan Zazzaroni Juve Grana Report il programma di Rai 3 anticipato una parte delle intercettazioni dell'inchiesta 2016 sul rapporto tra Ultras andrangheta e Club la puntata andrà in onda lunedì 22 il derby di Romagnoli ci pensa Iguain Icardi è forte ma il Milan a Gonzalo siamo tranquilli Griezmann show Low va verso la Serie B la National League la Francia ribalta la Germania 2 a 1 pallotta Rudy meno male che c'era Spalletti Little Boyle la Cina per la corsa mondiale e poi lo sci Goja che tristezza sciare senza la FON Lasciamo anche la prima pagina della Corriere dello Sport e ci trasferiamo su Tutto Sport Uomini d'oro questa è la copertina chi sono? C'è Piontech il 23enne della Genoa Giuseppe Marotta e Lucas Pacchetta 21 anni Juve Napoli Roma su Piontech ma rompe il Barça Braida sabato a Torino per seguire il bomber polacco del Genoa Steven Zhang futuro presidente dell'Inter invece incontra di nuovo Marotta l'accordo è vicino Pacchetta e non solo Elliot progetta un grande Milan le valutazioni Piontech quella che è stata attribuita è di 60 milioni Pacchetta invece 35 il dossier in mercato dunque proposto oggi dal Tutto Sport poi c'è la fila per Meite ma il Toro lo blind a quante big sul francese Napoli occhi su Lobotka Herrera la Roma ciprova Genoa su Lazare Samp l'idea Pepe e poi la Fiorentina piace Zai c'è Bologna su Terò il Parma Cigarini Cagliari idea Pepito e ancora Martina troppo facile accusare Ronaldo il caso Maiorga c'è l'intervista a Martina Colombari proposta da Tutto Sport di taglio basso i figli dei piloti più forti in auto in moto quasi sempre hanno ottenuto risultati migliori dei padri Valentino Rossi il top per quanto riguarda i risultati e poi il volley dicevamo la semifinale con l'Italia che sfiderà la Cina per la sfida finale per la vittoria del mondiale prima sconfitta in influente per le azzurre ieri che hanno perso 3-1 con la Serbia fuori invece la nazionale degli Stati Uniti e per quanto riguarda le prime pagine sportive è tutto in attesa di collegarci con i previsori dell'Osmer Arpa torniamo sullo sport regionale con il piccolo completiamo il quadro per quanto riguarda lo sport la Triestina in campo altro test di fuoco sul campo del Sud Tirola Bolzano alle 18.30 gli alabardati affrontano il secondo appuntamento del trittico terribile turn over in vista probabile riposo per Coletti e il Diablo Granocce e poi si giocherà sabato sera invece il prossimo turno a Rocco contro la Ternana sulla fronte basket invece abbiamo l'Alma che continua la sua nuova avventura in Serie A1 Buscaglia Belcolpo Alma Silins è uno che vale il tecnico della scorsa stagione allenato a Trento la nuova ala bianco-rossa grande senso tattico ottimo tiratore e poi il ciclismo Cassani la betone nel cuore Melo Zoncolan la salita più dura un'intervista di Guido Varella al CT della Nazionale di ciclismo che ha presentato il libro sulle grandi montagne italiane tra Toscana ed Emiliano a quel mito di Coppi ogni volta non posso non pensarci in cani invece 10 km più impegnativi ma io ho fatto anche il Crostis abbiamo messo nero su bianco tante grandi emozioni questo è il racconto di Davide Cassani che ha firmato con Beppe Conti il libro Le salite più belle d'Italia siamo pronti dunque a collegarci con la Osmerarpa diamo il buongiorno a Marcellino Salvador che situazione abbiamo in regione ma in regione abbiamo la flusso di aria umida dall'adriatico nulla di importante nulla a che vedere con quanto sta succedendo nella zona tirrenica dove ci sono diversi temporali frutto di una depressione ben più attiva da noi un flusso debole di correnti meridionali in quota che porta questa nuvolosità e saltuariamente qualche debole pioggia sparsa che sarà possibile anche nel corso della giornata si tratta comunque di piogge molto deboli e non importanti cielo che rimarrà prevalentemente coperto per la giornata forse un miglioramento nel tardo pomeriggio in serata temperature massime che arriveranno intorno ai 21 22 gradi sulla pianura e sulla costa mentre domani un miglioramento torna sostanzialmente il sole finisce questo flusso umido e avremo aria un po' più secca da cui un cielo in genere poco nuvoloso o al più variabile quindi una giornata con più sole e anche con temperature che tornano a salire su valori importanti per la stagione torniamo verso i 25 gradi sulla pianura e sulla costa come valori massimi e questo si avrà anche nei due giorni successivi giornate piuttosto belle salvo qualche nube ancora in montagna nella giornata di venerdì ma la maggior parte della giornata sarà comunque buona quindi un cielo poco nuvoloso per venerdì sulla pianura variabile in montagna ma con giornata stabile e temperature che tornano ancora su 25-26 gradi in pianura e anche nella giornata successiva andrà nella stessa maniera quindi sono temperature che soprattutto nei valori massimi sono ben al di fuori dei valori normali di stagione più da inizio autunno che da autunno inoltrato quindi temperature molto mitiche continuano forse scenderanno con la prossima settimana però siamo molto avanti buona giornata grazie grazie buona giornata anche a Marcellino Salvador e ai previsori dell'Osmer Arpa che ci hanno fatto il quadro della situazione prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata su Udinews TV l'informazione che ritornerà alle 13.30 e poi questa sera alle ore 20 orizzonti bianconeri la rubrica sul settore giovanile dell'Udinese curata da Maurizio Ferrari e Gianluca Lena e invece in prima serata ve l'avevamo già preannunciato ci sarà Basket Tonight con Jacopo Romeo e tanti ospiti per parlare di GSA ma non solo grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento